un caro saluto a tutte le famiglie della catechesi un abbraccio ci vediamo presto ciao ai ragazzi del sesto anno ciao state tutti bene un saluto a voi alle vostre famiglie un abbraccio forte forte mi mancate ci vedremo presto ciao bambini del terzo anno i ragazzi del sesto anno mi mancate tanto un forte abbraccio ciao ciao cari bimbi di quarta i gioiosi amici di gesù come vi chiamate vi mando un grande saluto un abbraccio a voi alle vostre famiglie sono sicura che ci vedremo presto ciao ciao ragazzi un saluto a voi e alle vostre famiglie vi abbraccio tutti e spero di vedervi presto ciao ragazzi vi mando un forte abbraccio e speriamo di vederci presto a ciascuno di voi un caro saluto nella speranza e nell'augurio di rivederci presto ciao a tutti ciao bimbi di terza come state speriamo di vederci presto vi salutiamo tanto io Sara e Riccardo un abbraccio ciao al mio gruppo di disperati di catechismo nonostante tutto non vedo l'ora di vedervi a presto ciao salute un abbraccio ai ragazzi e famiglie del mio gruppo ciao a presto ciao bimbi spero di rivedervi presto vi mando un caro saluto un forte abbraccio ciao ciao bimbi un saluto a voi e alle vostre famiglie spero di rivedervi presto un abbraccio ciao ciao ragazzi mi mancate tantissimo spero di rivedervi presto un bacione ciao ciao bimbi come state qui tutto bene non vedo l'ora di rivedervi un caro abbraccio anche io saluto i bambini del primo anno sperando di poterci rivedere presto ciao ragazzi ciao ragazzi è un po' che non ci vediamo mi mancate spero di rivedervi presto un bacione ciao a tutti i ragazzi di quarta